Con Telecom abbiamo realizzato un progetto di interna centrale, è un edificio promesco, un edificio quindi complesso, dove ci sono degli uffici, ci sono dei ristoranti, ci sono dei malatovitoi, ci sono delle sale apparati, che sono aree molto sensibili, ci sono gli apparati Telecom all'interno. Ci siamo resi conto che esistono delle aree di intervento molto importanti, senza cambiare l'infrastruttura tecnologica, ma solamente mettendo in piedi un dialogo fra i condizionatori e i sistemi di dimensioni esistenti, riusciamo ad ottenere dei vantaggi in termini energetico e nuovo. Quindi nel caso di Telecom abbiamo promesso inizialmente in un mondo progetto che praticamente abbiamo realizzato un 12% di saving con un ritorno all'investimento inferiore a tre anni. Con i certificati bianchi riusciamo ad avere, il cliente riesce ad avere un altro anno di saving, quindi scegliamo a due anni fondamentalmente di saving, anche qualche cosa di meno, in due anni di pay by time e in realtà avendo realizzato il doppio del saving che avevamo promesso, stiamo parlando di un investimento che rientra in un meno di un anno.